Quando ero sulla terra, cerchio armonia attraverso Nesaia a cura di Giulio Caserta, un predicatore. Quando ero sulla terra, ho dato tutto me stesso con le mie prediche e col mio fervore per trasmetterle con tutta l'energia che fino all'ultimo giorno ho voluto conservare. E guardavo con i miei occhi febbricitanti le persone che passavano davanti a me per una parola e pensavo, come potrò aiutarli dopo? Anche io avevo bisogno di una parola ed il Padre mi confortava, mi sollevava dal dolore e rafforzava la mia fede, la mia preghiera. Con l'amore si aprono tutte le porte, anche le più ostinate. Quest'amore deve trionfare, deve allargarsi e come un velo pietoso coprire tutte le brutture. Capisco che forse queste parole vi faranno sorridere, ma non posso fare altrimenti. Ricordate, tutto è possibile, tutto si può fare, l'importante è crederci. Quello che si può fare oggi non si può fare domani perché è troppo tardi. Quindi sostengo, come ho sempre fatto, che si può combattere la bassezza interiore, la chiusura mentale che preclude ogni possibilità di libertà individuale. Con questo concetto non deve mancarvi mai la speranza perché in noi c'è già la certezza.